Il retroescavatore BHF95 della serie Geotech Pro è ideale per una vasta gamma di operazioni di scavo e in movimentazione terra. Questo attrezzo è stato specificamente progettato per offrire ottime prestazioni sia in contesti agricoli che di costruzione, garantendo una versatilità e un'efficienza senza pari. Questo retroescavatore è in grado di eseguire lavori diversificati, come il trapianto, la creazione di sistemi di drenaggio, la sistemazione di gradoni di terreno e la rimozione di pietre e detriti. È inoltre ideale per la pulizia di fossi e corsi d'acqua, rendendolo uno strumento indispensabile per molte esigenze in vari contesti di lavoro. L'impianto idraulico autonomo integrato assicura prestazioni ottimali e indipendenza operativa. La sua compatibilità universale con trattori di piccola cilindrata lo rende flessibile e adatto a un'ampia gamma di attrezzature agricole. La mobilità è ulteriormente esaltata dalla capacità del braccio di sezione di ruotare fino a 180 gradi, garantendo precisione e flessibilità nelle operazioni. Inoltre, la robustezza e la durabilità sono assicurate dalle articolazioni principali realizzate con materiali di alta qualità, garantendo così una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!